Il puntello arriva a sorpresa dal Movimento 5 Stelle che vota con la maggioranza, fa passare il bilancio e salva l'amministrazione comunale di Carovigno. Il consigliere pentastellato Salvatore Ancora, esponente dell'opposizione, ha far ottenere al sindaco Massimo Lanzilotti il nono voto necessario per approvare le delibere, ribaltando le dichiarazioni di voto della vigilia e andando a compensare il vuoto che si era creato quando in maggioranza era entrato Jacopo Russo al posto della dimissionaria Marzia Bagnulo. Alle comprensibili polemiche scatenate dal suo voto, Ancora ha replicato di aver compiuto una scelta per il bene dei cittadini di Carovigno e di non essere di fatto entrato nella maggioranza, auspicando le dimissioni del sindaco Massimo Lanzilotti e la creazione di una giunta tecnica. Ma quando si parla di tempi, Ancora tira il freno, il mio non è un ultimatum, dice. Polemico il consigliere della Lega, l'ex sindaco Vittorio Zizza, che parla di sceneggiata e di accordo già sottoscritto lunedì, l'arrivo del commissario prefettizio non avrebbe provocato nulla di irreparabile, sostiene. Il voto di Ancora allarga di fatto la maggioranza, composta da Italia Viva e da una parte del PD, anche al Movimento 5 Stelle, ricalcando in qualche modo quanto avvenuto a livello di governo centrale e di quello che si sta sviluppando alla regione. Dopo lo strappo del consigliere Pentastellato, sono attese ora le mosse del sindaco, invitato quantomeno all'azzeramento della giunta o comunque al riconoscimento di un ruolo nell'amministrazione al nuovo alleato.